NAMASTE 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 NONSTRO NELL'ULTIMO EPISODIO QUA direi che ci possiamo intanto Che aspettiamo Ho dato un sacco di armi nuove qua ci mettiamo giu ok Ho dato di nuovo il ppd a lui lui ha le stesse armi lui ha lo suomi che abbiamo recuperato che fa un bordello di danni e ha 69 di carica a lui ho dato un altro ppd E anche a lei ho dato un altro PPD Nessi tra l'altro non so se notate Ma ha un po' di granate Sono tutti quanti pronti a partire Vediamo un po' come è fatta questa mappa Alla faccia Una mappa tutta aperta Intanto è una mappa gigantesca Ci sono uno e due edifici Ci sono un po' di esplosioni Che non mi fanno ben sperare Vediamo se c'è qualcosa di sotterraneo C'è qualcosa di sotterraneo qua Ci sono un paio di casse Ah ok è un unico piano questo Perfetto e questo invece è piano terra Primo piano e poi si arriva fino in cima Quindi ok tre piani Obiettivi Cattura membri del personale con possibili info Su questo luogo Trova persone che può fornire info necessari Ok quindi prendiamo la nostra squadra E direi che ci possiamo muovere Secondo me lungo i bordi Perché effettivamente Per entrare qua Ho bisogno di entrare dentro un cancello Ok fermo 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 Allora intanto ne vediamo uno qua Io per entrare Devo fare il giro del globo Quindi a sto punto Quindi a sto punto muoviamoci pure di qua Pianchino C'è qualcuno che riesce a vedere questo da là in fondo Quindi io direi di fare un altro giretto Fermatevi un attimo Chi è che lo vede? Vedete O lo vede solo Suc? Ok Suc lo vede da qui Ed è che cosa? Un soldato dell'asse Eis può tentare di sparargli? No Quindi ragazzi Vi riprendo tutti Restate così dove siete Venite pure di qua Chi è che si sta Perché Nessie ti stai muovendo Facendo strife? Quindi venite pure nell'angolino Ok tutti belli nascosti E cominciamo ad aggirare questo posto Vediamo se ce la facciamo Andiamo 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 Lavora Ci manca il settimo nano in effetti però Possiamo comunque fare il giro Tra l'altro Oz è velocissimo Ok ci sono E vediamo qualcuno In questa posizione qua Uuu È uno sniper O comunque sembra uno sniper Ci possiamo muovere qua Ok e se lo vede da qua Perfetto Quindi ragazzi Restate qui E vediamo di Prenderlo con il nostro fucile Quindi pian pianino Facciamo un po' di stealth 30% 43% di colpirlo Mirandolo E puntandolo bene Abbiamo il 100% 77 colpe in testa Vai 100% Ottimo che è ferito pesantemente Abala ad esempio Può venire qua Magari correndo Ottimo Anche tu puoi puntare In questa zona Punta bene 30% di colpire Ma vabbè Ok E direi che per adesso Può anche bastare così Giusto per Proviamo a fare anche con lei Tipo facendolo venire qua Tu che c'hai un fucile diverso Ok abbiamo quasi disintegrato Questa zona Quindi Per adesso basta così Vediamo cosa fanno loro Se mi vedono Per adesso Non dovrebbero Vedermi tanto Ma vediamo cosa riusciamo a fare Sembra una missione abbastanza lunga Ace Tu non lo vedi più Questo Adesso molto meglio Ok l'abbiamo L'abbiamo ucciso Ma abbiamo anche disintegrato Decisamente questa zona E Quindi siamo a un posto così Muoviamo Suc Facciamogli occorrere qua davanti Questo è lontanissimo Da noi Quindi non dovrebbe preoccuparci Ok Ne vediamo un altro Che è qua Ok Lo vediamo da qua È un soldato dell'asse sano E noi abbiamo Abala Che può colpirlo Se si muove un attimo Ok Ok Allora ci muoviamo in avanti E basta Perché effettivamente Suc È un bravo scout Perché vende molto lontano Però Purtroppo Non riesce Non riesce a colpire lontano A differenza degli altri Tanto Nessi ha un livello Glielo possiamo dare In A me interessava Danni a reattacco Quindi da questa parte Per fare questo Abbiamo bisogno di tutta sta roba Quindi Lancio migliore Mi sa che mi hanno visto Quindi torno un attimo indietro Progress Suc Va bene qua Abala va bene qua E lei va bene qua Ok Vediamo un po' Cosa succede Cosa ci fanno questi maledetti Ok Per adesso Sembra andare tutto bene Sei Non mi hanno visto Ace dove sei? Qua dietro Vieni qua davanti No Allora mandiamo Suc In una man scoperta Ok Rivediamo questo Che è ancora girato di là Ace non lo vedi? Lo può colpire Odds da qua Voi non potete Puntarlo Perché è troppo Troppo lontano Ok Muoviamoli tutti qua Ragazzi Ok Il prossimo turno Potremmo beccarlo Intanto muoviamo Odds Qua davanti Perfetto Così si fa la sua corsa Muoviamo Nessi Qua davanti Suc Non ci serve più come scout Perché tanto lo vede anche Ace Adesso A balare Vediamo uno laggiù Ok E lei Allora può venire qua E darci una mano Ok Quello che sentiamo È ancora là in fondo Mentre ne vediamo uno Ne sentiamo uno Qua sopra Che potrebbe essere preso Da uno dei nostri Sperando che non mi veda lui Vediamo un po' Cosa fanno Missione abbastanza stealth Vediamo un po' Ok Mi hanno visto finalmente Vediamo un po' Se Non riusciamo ancora Vederlo con Ace Porte che si aprono Gente che sta uscendo Vediamo 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 Ok Tocca a me Il turno è stato molto lungo Ok Suc lo vede Ma Ace no Però E non può neanche puntarlo Possono puntare tutti Ma il mio sniper no Però adesso si Perché per colpire Ho così poco Fai un passettino indietro Non posso farlo Non posso farlo Uffa Vabbè Allora muoviti di qua Vediamo questo Abbala Dove sei Vieni qua Tu non lo vedi Va bene Tu ce la fai colpire Fin qua Ah 2% 5% 5% Ma si Scarichiamo lì giù Un caricatore Esatto You are able To fail No Possiamo avvicinarci Oppure sparare direttamente Con il panzer Questo è il panzer Questo è il panzer Quanto ci vuole per sparare con questo 36 Avevo poche possibilità di colpirlo Ma è stata bellissima questa cosa Quindi la lasciamo così Com'è Tu puoi fare una corsa di qua Tu puoi fare una corsa di qua E tu puoi fare una corsa di qua Quindi andiamo più avanti possibile Tanto adesso la via Da questa parte è libera E possiamo entrare Pian piano da quella parte Ci sono anche delle Delle armi ottime qua Non possiamo utilizzarle queste Mi sa di no Però possiamo utilizzare questo Quindi ottimo a sapersi Vediamo un po' cosa fanno Tanto che noi continuiamo a fare il giro Questa si avvicina C'ha una ferita lieve Ok Questo è un altro O è sempre lui che sta cercando di fare il giro Qua si è aperta la porta Quindi c'è qualcuno già in questa zona Probabilmente Vediamo un po' cosa fanno loro Vedo di nuovo uno di qua Sto muovendo io la telecamera adesso Giusto per cercare di capire Se ci muove ancora qualcuno Ma Non vedo grossi movimenti ancora Perché siamo abbastanza Siamo ancora troppo lontani Sento qualcuno muoversi in questa zona Sento muoversi all'interno dell'edificio Perché ho Suk vicino Che è bravissimo come scout Ok Lo utilizziamo ancora come scout Perché lo mandiamo Qua davanti Fai la tua corsetta Ottimo Non vede niente Quindi mandiamo Ace Ok Mandiamo Oz In avanza scoperta Ancora un po' di più Ok C'è qualcosa Che senti C'è qualcosa Che non funziona Quindi restiamo qua E Nessi Puoi darci una mano? Ok Ve ne vediamo uno Riesci a lanciargli una granata? Direi di sì Se ce la fai A lanciarla oltre Se è un figo Complimenti Nessi Ottimo Tra l'altro Ha distrutto questo Quindi adesso Questa diventa Più o meno Inoperabile Più o meno Mi hanno fatto un bel buchetto Quindi bravo E non ci beccano In nessuna maniera Adesso Tu vai ancora avanti Abba lo muoviamo fin qua E Lei La muoviamo fin là davanti Ok C'è un bel po' di gente Tu torni indietro Mi sa che è un altro Lavoro per Nessi Sperando di morire A questo turno Ho appena salvato Il che non è una cosa Tanto bella Abbiamo sia Abbiamo tutti e due Anche Oz potrebbe fare Un bel lavoro Con il suo Lanciamissili Però Però bisogna stare attenti Loro mi sa che Non mi stanno vedendo Da qua Perché sono uscito Dal loro range Perché c'era solo Lei che vedeva No Mi si sono avvicinati Adesso vediamo Se Oz può fare Una bella scaricata Oppure ci pensano Nessi con una granata Tanto gente Che si muove ancora Forza e coraggio Vediamo cosa è Cosa ne sarà Della nostra Special Operation S2 Oppure Soprenominata Fatta da molti di voi Silent Storm Anche se in realtà Silent Storm A quanto pare Un'operazione Del nemico Ce la faremo Sopravvivete Ok Siamo sopravvissuti Oz Oz Ricarica Con 43 Puoi sparare Si Buono a Buono a Sapersi Però puoi sparare Anche con questo Quanto lo becchi 36% Proviamoci Ottimo Ottimo Allora Abala C'ha Lei in mezzo Ok Vediamo anche Questo qua in fondo Allora Abala Fammi un passettino Più in qua E colpisci questo Puntalo bene E addio Ok E lei Colpisci Mi questo Gentilmente E lei Che ha anche un punto E glielo possiamo dare In una di queste cose Che sono utilissime Rimuove la penalità Dell'uso del Panzerklein E lo mettiamo Anche se effettivamente Non ci serve adesso Perché non abbiamo Ancora il Panzerklein Ma sappiamo che Lo utilizzarà presto E lei Vorrei che puntassi Questo Lo puntassi bene Ok Non hai fatto Granchi di danni Ma Va bene lo stesso Voi avete fatto tutto Quindi manca solo Nessi Che possa fare qualcosa Puoi lanciare qua Sì Sei un figo Ok Rilanciamo questa granata Giusto perché Ho a disposizione Un sacco di cose Proviamo un altro tipo Ok abbiamo disintegrato Anche la La zona qua Così possiamo entrare da là Tu puoi lanciarne Ancora due Puoi lanciarne una qua Più o meno Quindi prova Prova di nuovo Scusa perché Non ho capito Sta cosa Ottima cosa E ne lanciamo ancora Una qua No Ricarichiamo questa cosa Vediamo di lanciare la seconda Qua Se ce la fai Riprovaci Ho detto riprovaci E usiamo E usiamo invece Ace Per colpire Per colpire l'ultimo Che ce l'ha Fai una corsa Fin qua Dovresti riuscire A puntarlo Non ancora Non ancora Non ancora Non ancora Da qua Considera Davvero non lo vedi da qua Ace non riesce a vedere questo Ok da qua Wow E tra l'altro C'è un altro dietro Che però c'è una pistola Quindi non mi preoccupa tanto Mi preoccupa di più questo Che puntiamo 55 Nope Scusa riprova Ok Ferita pesante Mi va bene Suck dove sei? Qui Riesci a vedere Uh Ce n'è un altro ancora Qua Ok Hai chiuso la porta Tu hai granate? Uh Hai questo 34 per farlo sparare Puoi venire qua? It is understood Così il prossimo turno Vediamo magari di utilizzarlo Abbiamo due Granate con noi E Incrociamo le dita Perché sono tanti nemici E possono sparare tanto Allora Allora Uno ha già fallito Questo c'è la pistoletta Ah Ha quasi Ha quasi beccato Ace Ma non ce l'ha fatta Vediamo un po' Cosa fanno altri Finora sta andando molto bene Ecco Vedi sentito L'ho appena detto E mi hanno beccato Sono finito Sono finiti Sì Allora Ace Sta perdendo Sì è cieco E non va tanto bene Abala Ci servi tu Cura gentilmente Signore Ace Ok è paziente Per adesso Quindi forse Riesco a togliere qualcosa Tu puoi colpire questo qua 5% Vai Prova a colpirlo di nuovo Ottima cosa Credo tu ne abbia uccisi due C'è un sacco di sangue E questo è ancora vivo Qua abbiamo distrutto anche una parete Va benissimo Questo è ancora È solo ferito Possiamo ricaricare Odds Suc Nessi Nessi Ok vediamo anche quello Questo lo possiamo Sconfiggere così Ma abbiamo anche lei Che può puntare Stava puntando questo? Colpo in testa Niente Tocca Tocca a Nessi Rissolve la situazione Quindi vieni pure qua Ne abbiamo anche uno qua in fondo E anche uno qua Ok Nessi Forse sei un po' troppo avanti Quindi come indietro Così almeno quello Non ti vede Abbiamo 43 Che sono due bombe Una la possiamo lanciare Fin qua Ottimo Eh? Si è fatto male Ace Da qua? Ok Non so come Ma ei Se si era fatto male Ok Qua impostiamo questo Impostiamo giusto Una bomba in più qua E adesso potrei cercare Di colpire quello Con una scarica 14% Proviamoci No Tu funzioni molto meglio Con le granate Quindi continua Su quella strada Kaboom Ok Stiamo facendo fuori Un sacco di persone E qua c'è un sacco di Sono un sacco di cose Che potrei recuperare Qualche fucile Qua c'è Questo cos'è? La porta? Si credo sia la porta distrutta Si Eh Ok Annullazione Qualsiasi cosa stessi facendo Ok Manca da muoversi Ace Che però non si muoverà E tu che devi fare tutto il giro Quindi tu puoi venire fin qua Riesci a vedere quello in fondo? Ok Vedi questo 4% di colpire Puoi colpire con questo Se provi a sparagli Ok Decisamente no Quindi fermo là E puoi vedere Quello là Proviamoci ancora A colpire questo Ah Non puoi colpirlo Perché 30 E' rotti Quindi puoi andare qua Ok C'è un altro Anche là in fondo No Oz resta pure qua Fermo Il prossimo turno Potrei fare qualcosa Eeeh A posto così Au Abbiamo un interrompi Da parte di Oz Che adesso Vede questo Ok Come non detto Per adesso Si è mosso molto vicino a Oz Il che è un problema Abbiamo un interrompi Da parte di Nessi Che non può fare granché Se non avvicinarsi Qua ne abbiamo un altro Qui Eeeh Non avvicinarti tanto All'albero Ma piuttosto Resta fermo qua Per adesso Vediamo cosa fanno loro E vediamo se Eeeh Si riesce Riesce a vedere qualcosa Di più Perché ci serve Ci serve Abbiamo un altro Ce la faremo? Un altro ancora? Ok Tocca a noi Eeeh 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 Tu Se vai in mezzo Un po' un casino Quindi Nessi Nessi Ce la fai a colpire fin qua giù? No Questo è troppo lontano Eeeh Eeeh Quanta gente Però sono tutti oltre Oltre la barricata Quindi non è un problema Eeeh Eeeh Lei 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 viene Un po' più avanti Ok Eeeh 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 Intanto può attaccare Questo Ottimo Odds In teoria può finirlo Perfetto Eeeh Perfetto E con i 27 che ti rimangono Puoi tentare di colpire questo Hai fatto due bei colpi Vedete i colpi che sono ribalzati Tra l'altro Che è una cosa fighissima di questo gioco Secondo me Tu hai il visuale su un casino di gente Hai questo anche tra l'altro Con l'ultimo razzo Questo ci può servire Ops Proviamo di nuovo Non male Proviamo ancora Questo è un ottimo colpo Va bene così Eeeh Prova a colpire Questo Questo No Tentare non nuoce Ok Salviamo E abbiamo solo Nessie disponibile Per fare qualcosa Anche Ace in realtà Può fare qualcosa No Perché sei cieco Non puoi fare nulla In questo momento A parte muoverti Nessie Nessie ne ha Ancora un sacco Che può vedere Purtroppo ha questa Che è Media Ne abbiamo una leggera Media Credo queste siano leggere Quindi queste almeno puoi lanciarle Qua in fondo E' proprio l'angolazione che non ti piace Qua però ci arrivi Prova a lanciarmela qua Prova di nuovo scusa Provaci di nuovo scusa Perché stai facendo un ottimo lavoro Sì Sì Se mandi ancora un attimino più lontano Prova qua Prova qua Stiamo finendo già Stiamo finendo tutte le cose possibili Immaginabili Questo lo possiamo beccare qua Puoi lanciare lontanissimo Nessie Dopo l'ultima cosa Devo dire che Si è veramente un figo Che possiamo lanciare Dall'altra parte della mappa Da qui fino a qua è arrivato Quindi tra l'altro stiamo disintegrando Tutto quanto quello che c'è E ce ne mancano Tre Di cui uno Ferito Uno Credo che questo sia No Questo è sano E questo è sano Ok Tu puoi tornare indietro Hai fatto un ottimo lavoro Fino adesso Ci mancherebbero Abala E Ace Che però sono Non possono fare granché Ok Vediamo un po' Cosa facciamo Quanti cadaveri ci sono in giro Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Questo sta beccando Ace Sta beccando Oz Questo sta avvicinando Sempre Oz Che è il nostro tank Per 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 Antonomasia Qui Vediamo un po' Cosa fare Dobbiamo andare sia qua Che qui Probabilmente qua dentro C'era qualcuno Sia piano di sotto Sia piano di sopra Ace 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 Non sei più paziente Quindi puoi fare E tra l'altro Lo ci vedi Quindi puoi venire qua davanti Direi che quello più Che mi impensierisce È questo Quindi prego A lei Che lei è il capo Di cecchini Quindi Bam Result Acquired Result Acquired Tu hai anche un altro livello Che possiamo darti Avevi fatto tutta questa cosa Quindi quello che mi serve Danni mischia maggiore Non mi interessa Colpo secco rapido Permette di usare Il colpo secco Del buy No Porta corpo Non so che Non so effettivamente Se ci serva Soprattutto in battaglia Perché non li porto mai Colpisci questo Puntalo Miralo Colpisci Complimenti Ce ne mancano due Di quelli visibili Abbiamo Odds Che è qua davanti Che è pronto a colpire Questo Puoi colpire Gentilmente Questo qua Neop Provaci Di nuovo Giusto per Voglio vedere se cambio qualcosa Sì ok Cambia di molto Quindi Piuttosto lo facciamo così Adesso non lo becherò mai più Dove è quell'82 Che avevo visto Vabbè Vai con 34 Ah sparano a caso Ecco cosa Quindi l'avevo colpito Questo aveva sparato a caso Aveva colpito E si ha la faccia Della mira Tu hai la possibilità Di beccare questo Si ha fatto 50 colpi Prima o poi lo becco Oh finalmente abbiamo Un interrompi Oh Complimenti E' finito il progetto Ah no Ok non puoi ricaricare Nessi E' lei E' lei Puoi fare un passettino In avanti Mi vedi questo Puntalo Miralo Colpiscilo E Nessi Infine Può pensare a questo Se viene Qui Vuoi lanciare Un'altra granata So che vuoi lanciare Un'altra granata Me lo sento Una faccia Del lancio Complimenti E tu puoi correre Direttamente qua dentro Ok direi che un po' di danno Le abbiamo fatti Possiamo finire il turno E vedere cosa succede Au C'è un altro che ci vede Abra deve curare Oddo Mi sa Guardate qua che casino Tra l'altro credo che qualche cadavere sia sparito nel nulla Quindi Qui c'è un'altra Qui c'è un altro Ok tocca di nuovo a noi Eiss Vedi qualcuno Eiss ha un livello Ottimo E dobbiamo arrivare A questo qua Abbiamo detto Quindi gittata maggiore Uh gittata maggiore Ottimo Può sparare ancora più lontano Vieni avanti di un attimo Perfetto Direi che puoi colpire Meglio Questo Ah peccato Peccato Non sei riuscito a fare il livello A te interessa Imboscato Aumento la priorità di tiro critico Non mi interessava Corsa furtiva Non è male come cosa Cambio poso più veloce Questo era Mischia migliore Questo era Lancio veloce Vai con questo Ok E lei E lei vedi questo Questo è il 39 Questo è il 41 Vai con questo Ah Nessi Nessi E' il tuo lavoro Ok C'è uno dei cadaveri in mezzo Sai cosa fai? Fai un passetto Magari più avanti Alcuno 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 Qua C'è che ti dico Cura direttamente Oz e Oz invece può scaricare una mitragliata ottimo, Sook lo muoviamo qua dentro fanno una bella corsa fin qua si, fai una corsa fin qua magari è un errore però ci proviamo ah c'è qualcuno sulla porta questo si è beccato una granata in faccia e non ha detto niente Sook, puoi arrivare tipo fin lì attaccato? no, puoi arrivare fin qua uh c'era un'altra ancora qua ottimo lavoro e ne vediamo due uno che è qua sopra e uno che è qua sotto chi abbiamo ancora disponibile? Nessi Nessi che può avvicinarsi ancora a questa posizione e lei invece l'avviciniamo qua ok direi che ci sono un bel po' di cose che possiamo fare abbiamo ancora altri due nemici più un altro che ho visto dentro ho sentito dentro questo sta puntando probabilmente Nessi qua ne abbiamo un altro ancora alla faccia quanti nemici ogni volta e noi siamo in sei in tutto ok però non mi hanno visto granché ehm, Ace muoviti qua Riesci a vedere quelli lì in fondo? non ancora ok qua ne vedi uno ah, sprechi un sacco di colpi purtroppo per cercare di puntarlo abbiamo bisogno decisamente di un'arma migliore per lui quindi ho sprecato tutto il turno per fare solo questa cosa ehm, tu azione bloccata? ah ok perché sono non posso muovermi da qua Suc Suc e Nessi mi sa che possono venire qua dentro quindi Suc vieni qua c'è nessuno qua? ok però adesso non ne vediamo quindi facciamo il giro di qua ottimo che ce n'è uno a portata di pistola freddato ok e Nessi Nessi potrebbe occuparsi di questa zona fuori è un po' difficile però in realtà le tue bombe vanno molto lontano no però è meglio che dai una mano dentro ne vai pure qua continua continua ok e stai qua fermo da questa parte Abba la sta curando e lei che cosa può fare? lei può venire qua e puntarmi questo ah non sono riuscito a beccarlo Oz può provare a colpire questo col 2% ricarica anzi no colpisce con questo no non ce la fa di poco quindi ricarica e scarica riprova scusa perché tutti i colpi sul coso oh in nessun modo si riesce a colpire no a quanto pare è impossibile da colpire ok giusto per provare l'ultima volta ok come non detto giusto per provare se effettivamente funzionavano le percentuali ma a quanto pare sono queste Oz si è curato abbastanza tu hai deciso di andare indietro ottimo e tra l'altro ha aperto anche il cancello ok tocca a noi di nuovo a quanto pare non ce ne sono così tanti rimasti Ace vieni qua all'aperto vedi se riesci a vedere qualcuno ok vediamo questo qua giù puntalo puntalo bene ottimo colpo e lei dovrebbe riuscire a concluderlo ottimo e forse anche Abala ok Abala no però gli altri si tu puoi venire qua dentro lo cerco dentro di bello cartucce MG e cartucce 2935 sembra migliore di quello che ha lui 2934 è un pochino migliore proprio pochino vieni direttamente qua ok qua non c'è niente stiamo sulla porta questa porta è da buttare giù no Nessi può fare il giro di qua sembra non ci sia nessuno di qua c'è qualcuno questo non possiamo farci niente tutto chiuso 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 ok quindi voi potete andare direttamente qua dobbiamo andare solo su e giù piano terra piano terra sgombro Oz Oz cosa puoi fare? Oz puoi venire qua davanti e colpirmi questo in qualche maniera quanto costa sparare con questo? 36 ah per uno ok come non detto avanti al prossimo turno vediamo cosa fanno questo ha deciso di muoversi di sparare di far ok di star fermo e non fare assolutamente nulla Ace a te l'onore ok Oz che ha anche fatto un livello che diamo in sopravvivi in modo che possiamo arrivare a questo no Nessi ecco state facendo un sacco di livelli si tu puoi arrivare a per l'esplosione delle granate vai qui abbiamo le granate ancora più fighe e anche tu ci servi allora ti mandiamo di sopra o di sotto ah non c'è un di sotto dobbiamo andare di sopra ok quindi andiamo di sopra ok abbiamo uno dietro la porta Nessi vieni qua e sta fermo qua Abala Abala viene a sorvegliare questa zona che non si sa mai che venga fuori qualcuno e Oz è qui vieni ancora un po' più vicino e e lei vieni qua abbiamo trovato il nostro obiettivo trova la persona che può fornire le informazioni necessarie e metti KO e questo è Rolf Petters un altro sotto ufficiale che cominciamo a puntare per colpire a sto punto lo puntiamo bene e non lo perdiamo d'occhio possiamo anche sparargli ma se dobbiamo non dobbiamo ucciderlo forse è meglio restare in zona abbiamo credo un interrompi da lassù vediamo cosa faranno ok questo tenta di colpire Oz abbastanza maldestramente per adesso tu vieni pure fuori vero intanto devo proprio beccare si è nascosto comunque sappiamo che è là buono sapersi adesso andiamo a fare una visita e lei si è beccata un colpo Ace Ace vedi qualcosa qualcuno vede questo forse se si avvicina ok lo vediamo da qua puntalo mira 50% di beccare era un po' scarso molto meglio abala è qua in fondo però se viene un po' più su uh vedi un altro questo è quello che temo un po' più di più di questo questo c'è un fucile però 28 e 12 puntami questo ok Ness Suc e Oz allora Oz può prendere questo troppo lontani da qui puoi beccarlo ok come non detto vabbè Suc Suc puoi uccidere a freddo questo insolviamo un attimo puf se sei riuscito a mancarlo da qua proviamo di nuovo oh già meglio già molto meglio e continuiamo per acquisire questa stanza qua sembra non ci sia niente quindi dobbiamo andare di sopra e restiamo qua Ness viene direttamente qua alla faccia se si muove quest'uomo ok sembra tutto vuoto può non sapersi perché dobbiamo finire il turno e a quanto pare abbiamo questi tre nemici più il nemico principale Oz si è beccato due proiettili abbiamo questi tre nemici più il nemico principale quindi adesso vedremo di beccarli e finire la missione se ce la facciamo questo non so se è un quarto nemico quinto nemico ok tu devi assolutamente curare quello però stai puntando già questo ok colpiscilo ce la fai andare qua a curare Ace c47 no Ace devi correre qua e Abala curi Ace a 39 perfetto moving up serve che lo curi perché è cieco un'altra volta Oz è qua davanti può pensare a questi due Nessi è qua sopra in questo momento è inutile quindi può tornare fuori tu la stessa cosa puoi tornare qua fuori in qualche maniera ma non puoi farlo perché c'è lui in mezzo vabbè corri fin qua allora ok tu hai la possibilità di colpire questi due soldato e soldato ok uno è ferito e uno no 31 e 27 cerca di colpire questo ottimo pian piano ce la facciamo non puoi ricaricare Suk abbiamo detto che non può fare granché tu puoi sparare da qua no allora resta così e guarda da questa parte anche se sei cieco Oz manchi tu a far qualcosa hai delle granate certo che hai delle granate oltre che avere questo quindi intanto fai un passettino di qua così vediamo questo 24% di colpire prova ok 13 che mancano però con quei 13 ti puoi nascondere qua dietro perfetto vai qua allora prossimo turno vedremo di uccidere tutti quanti gli altri Suk non possiamo fare niente quindi aspettiamo au un altro colpo per e lei aiuto ok abbiamo un interrompi da parte di e lei e lei cosa puoi fare puoi puntare questo puoi no non puoi fare niente resta qua speriamo di non morire ok tocca a noi allora tu sei ancora malato e tu stai curando Nessi vieni qua fuori Suk vieni qua fuori ok Ace non puoi colpire nessuno Oz puoi colpire qualcuno Abba la stai curando e lei puoi colpire ancora ma devi ricaricare ah riprova è diventato Oz Oz dovrebbe pensare anche a quello però forse è ancora meglio se vieni di qua è un sacco di forza quindi puoi lanciare questa complimenti per il lancio però puoi fare di meglio no questo questo ho fatto chiudere la porta che non è male ok questo è morto e tu puoi venire qua e guardare da questa parte e lei invece può puntare quindi questo quindi puoi ricaricare puntarmi questo puntarlo bene salviamo cerchiamo di colpirlo ok avanti è che ce l'abbiamo quasi fatta Oz no è lei visto che è il tuo bersaglio ottimo Suk corri qua vediamo ancora quello ecco chi tu hai la possibilità di lanciare qualcosa qua su solo 8 riproviamo scusate che voglio vedere un attimo anche i danni ah già meglio prova di nuovo ok è ferito gravemente però effettivamente manca ancora qualcosa ce lo facciamo colpirlo con Nessie Nessie è in culoni in questo momento è lontanissimo mi ha sorriso mi ha aspettato Abba lo sta ancora curando Niente, fermi un altro turno Sai che c'è Ish che c'ha un sacco di danno Lui sta perdendo ancora un sacco di danno Sta perdendo ancora un sacco Qui ho finito però le mine Suc Suc ha i 70 punti Wow Può venire fin qua E puoi intentare di colpirlo ancora Con l'esperienza Viene la sabbia Niente E allora ci pensa adesso Adesso si può venire qua E lanciarti una granata in faccia Uh è rimbalzata Adesso aumentiamo un attimo il cinematic per vederla meglio questa Wee Boom Ok Questo ha funzionato molto meglio Dovrebbero essere finiti a parte il nemico principale Tu non sei più Sei stato curato ma dovrei curarti ancora Quindi prenditi questa E cura di nuovo Ace Ok molto meglio questa volta E tu vieni qua Non vediamo dov'è il nemico ma dovrebbe essere nascosto qua Adesso potrevo muoverlo Ah siamo fuori combattimento Ottimo Quindi qua siamo tutti curati Si Allora vediamo di prendere tutti Di metterci giù Nascosti E tutti qua Con l'esperienza Viene la sabbia È circa il tempo Pugna Ok turno nemico ma siamo tutti qua E lui è lì Cosa ho intenzione di fare Ok direi che è arrivato il momento di un cinematic di quelli assurdi Tipo Col nuovo fucile Andiamo direttamente qua A pugni Possiamo prenderlo a pugni Sì prendiamolo a pugni Quattordici Ok se no prendiamo questo fucile E come si suol dire Ok abbiamo fatto un bel po' di casino Possiamo recuperarlo Oz a te l'onore E voilà E voilà Mi hanno recuperato Porta fuori dall'area calda Ma se non sbaglio l'area calda è finita Perché adesso possiamo prendere lei Venire qua Abbiamo anche un livello per lei Possiamo dare altre bonus Di questi Vediamo se sono finiti Sì siamo fuori combattimento Quindi abbiamo finito effettivamente la missione Perché porta fuori dall'area calda Ma adesso possiamo muorci qua Recuperare un po' di armi e ci vediamo alla fine Ed eccoci Non ho recuperato granché dalla battaglia Ho visto effettivamente non c'era granché da recuperare Mi bastano pure le armi che ho Rolf Peters è più un tecnico del laboratorio che un soldato Fiero Ha confessato il successo dei test sulla corazza personale In curante della sua importanza strategica Ha svelato la locazione del laboratorio tedesco Dove è stato fabbricato un prototipo Ottimo Capiamo qualcosa in più su questi Panzerklein Niente di che Quindi possiamo tornare pure indietro La prossima missione sarà in quel di Di nuovo gli Urali Gli Urali al complesso ignoto dell'organizzazione Quindi ci addentriamo sempre di più dentro questa trama Possiamo pure tornare indietro Bello vedere Succa con un fucile Con un bazooka sulla schiena E voglio dare un'altra occhiata All'armeria prima di salutarvi E ringraziarvi per la visione Perché siete sempre grandi e fighi A vederla questa serie Perché mi sta piacendo tantissimo E mi fa molto piacere mostrarvi un gioco Che effettivamente non è molto conosciuto Volevo dare un'occhiata Ok non sono arrivati tipi di Mitraillatrici diverse Mi aspettavo arrivassero tipo di colpi di pistola Questo intanto ce l'abbiamo recuperato Che è molto figo come arma E la utilizzeremo al più presto Quindi rimettiamo in sesto la squadra E ci vediamo al prossimo episodio Di questo Let's Play Silent Storm Grazie ancora della visione Mettete un mi piace Condividete gli episodi della serie Se vi sono piaciuti E continuate a commentare Con quello che vi ho richiesto durante l'episodio Namaste e be brave